La Vada La Vada La Vada Sonti 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 опрос No I Daj Dakle Z Z Z Z Z Grazie. Grazie. ma che mi stessa in quanto la corsa, perché mi sono mai sotto la trame e nemmeno quello che ti prendono e cosa che sono qui è giusto in tutto il giorno, in un giorno, in un giorno, in un giorno, che vedi, che vedi le persone non sono nelle fronte Ma che strada, mi mi piace di quello, che si vedi ogni giorno, anche i che il resto. Svega di malo, provadeva per la grande oposta, niente che non stane da nemmo. Dobbiamo, chate da scendere o trepe. Che pensi su te? Ima freddo, in ti si rostrigno a nemmo. Gumpi scuote. Nebila, svegova, ovo. Mentre in gianca, tega ne moro, a tu in vecchio rischio. Ja, ti bo povella, da che è vecchio rischio. C'è ne cade. No, ne. Ampak ne mogo, a si capri posbili tutto troppo. Stasi canna fezzarvi stella, troppo. Perché si è giusto. Mi d'jevo da razumite, da tu delava in scuolezi. Ne, tu mi muiši. Pomaš ne capri. C'è se ne razumeš, a ne ti no mi c'è? Ne, ne, niente, niente. Odbri davlo. Ne, ne bo. Hansi. Hansi! Vecano so, odbri davlo. Tore. Tore. Tosevñas ti medkar inak. In to, erana kio inak. Finisht, ridabu i kratzen. Tisina. Tsa, 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 nio, ne bo kotzi peda, Tore. Domenico che vedo il suo lavoro, e il suo lavoro, che il suo lavoro è sempre più di più. E' il suo lavoro di matematica. Oto il suo lavoro, e il suo lavoro. Matematica nel lavoro, italiani e il suo lavoro, e il suo lavoro è sempre più di più. Mi sapevi da me chiamer. D'essere che... ...Nezere che non sia così... D'essere che non si parla per me. Ma cosa mi permette di fare! È bene! È bene! È bene! Maai, bene per me... E questo, perché non è ero finito! Così è? È bene, è bene, apparti! È bene così... Non è che to non è nando... È bene così! È bene così... E se una direttava! Mami! Mami! Spero zavecerno! Mami! Poi dita, da očetamo, Gospodoba, jazdem povera, če è che ho capito. Se piremo, se piremo. Mislim, da s'ai avuto, che spet ne vedo. Kako vi? Ja, ne da, ne piže. Dajte, mamma, mamma, po poti bobo metala kamenčke, in če bo naj jo oče pustil v rozo, ima boba sledi da ima zajedno malo. V kakšnem sveču živimo, da morajo otroci za saba skušati kamenčke, da ne postavne sirote. Se nista ona, da priva. Rosije? Kaj pa govorim, seveda se priva. Groč mi stašla sam, ti gledeva po kamenčke razli. Oče jo pejal, betko, jakal, sveču živimo. In bi lašta, zelo lašna, to še vejo. Manuel, ko ne to zna, ko ne to ne to zna. Oče je bil zelo neslečen, in ga morajo započeti, a početi. A početi na skole, da sem pomislil, in sveča bil, kakoli prost, zvame všeč ni slabo. Veste, jaz v bistvu sploh nisem slabo. To, mi je ravno tako všeč kot dva. Če dobro pomizim, sploh ima tako za ljudi. Ah, pomislil si se. Hvizda, nema razaj dobro. Kam so lepa, Jašo? Slavno, plavšna za najpiti. O, kaj vedno, tukaj, preveni ljudje, lahko izabukati na kilometr zaleč. Ne, da se nočevati znaj, če nisem niti njivi, da smo ne omenili, nišče, nišče, da ste. Obađujem ljudi. Vedno me spomljajo na to, kako volat. Hvidite, služaj, neva strano ti beveženo. Sajdeš, nevečina narezljiva kot ošpice, in mi dva nisva cepljena. E, bingo, da? Reč je, pa, pa, veli ljudje. Kako stračno. Še nikoli, nisem bilo na petku, nekaj ta sanijami, res smučna velik tega, ampak, o, pogledajte, ja, išči se štiti. Kje? Se mi je kaj zdelo, da bom nate bilo na to. Nimi, treba se paliči. Zupeljaj, najve oda, na taj na moro. Oči, je dekel dohov, in moča tvoji ženi, da je načrt uspejo. To je morda, da ste se vračna, da bi imeli kaj mjako. In bila sta tako zelo lačna. Ali, ko ne paš, ko ne paš, pojmej da ne bineš. Pa, pravne, ne bi bilo, ne bi bilo. Vem na mora poznati, da je na malo slabo bil, ne prediraga, sagriš, kaj pravo, časa celih se radi. Da bo šla že po zabiju, da da, Nasi la simba portata, è sempre più forte, per ogni anno, non ti fa così, e per l'ultima stagione, di ogni stagione, per ogni stagione. Se volvi dare tutto a colmo, mi sembravo che sono sempre più tanti, non so che vi facciano, non so che vi facciano. È una prima cosa di vedere. E' un'altra cosa che sono sempre un'altra cosa di più, oltre. Non so che nessun personaggio, mi scusasse mai piacere, non so che non so che non so. Voi sera ti spavala in poboli. Prisla vse od sebe. Očitno nadovol, ti si scopriam temer. Sebe bi morala odpeljati in kosti da pustiti dam. A zavečerjo je samo kompire? Ja, lehe so che da že vati, ali pa vedi te kliči, odpeljamo kosti da pustiti dam. A pa tokrat popišelvi l'Ivov. Oprosti. Zdaj se bo sedita in pocacata da kompire. Kaži, ti si lo vidi pocacija. Če plauši da odloči osvogala, odloči da so Stasja o Čila, da si o se enke vede. Ne, vedi no raun poboli, da ne, Stasja pa ti soč da vede, ne? Še slični berni se je mama o Čila, da bi no no kuskusi sviča. Da bo jo tro. Vedi, da sočka kremo. Reči ne bi še spetna moč, da pocacila. Je bodi ne umda, zakaj bi pa ti naredila? Sej si ba je na mama. Reč bi jo naivno če bi ti naredila. Ampak, daj ti bo, ja si ne na mama, povaš bojo vod. In ob enih kambo, vem, kaj ste naredila če vel. Obljubiva, da nimaj va kamno, nimaj va želbo, kja šlo veli, njih. Njih. Kaj pa pa je skladno? Ne skrubi, ti nam kužne dotinice. Njih, kjeta klikne, kas kudi? In so šli v gozo. Janke je po poti skušajo dotinice, da posto da povrašajo kot nazaj dobro. Stop, stop, blinj. Kje pa je dobijo dotinice, če so tevni in nimaj ni česa se jest? Nima pojna, da ko pišo tekstu, naj se sad razložim sam, jaz nešne vedem. Dobre. Janke je po poti skušajo dotinice, da bo se lahko našla kot nazaj dobro. Ampak, petal nekuši kot ni, po gospod politici ni rada mi najboljša ideja. In mi je lošna, mamore! No, kako ču kot bi, kost. Mama, lakš maš no. Dobro. Ne, hđaj, čas, ne, čas, 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 Sploh mi ne fa vorrei, ma è d'amica popolta un'altra. Cele deve delano in prinazione, da bo ciòve, cosevice in bajche. Ona pa si solo priteggiuo, da me niente domani, in da esbova sempre. E? C'è? C'è? C'è n'è, che è generally scena. C'è per il nostro cò. Drogti nizze. C'è? In Mongrè si gliederna da ne manche svegliere qui da altro. C'è? C'è? Non ciòve, non ciòve, non ciòve. C'è di Sì, no, Lei. Non c'è ci stai a si straci, proprio. Non, non c'è un moro. Ua, ma non c'è un po' maggiore, non c'è un po' pot seguro. Qu'è l'ipto, strani, non c'è un po' di lei. Mamma, l'asso. Vem, vem, da si ravi o tro. Oh, poglej, Tatjana, pišem se sta šic. Kje? Ne moro da metti, spesa paga na istitki. Ja, ma člopin, pomezi, come se la doma po ciasi do elio. Ampak nesco di imala pottinica. Poglej, pottinici di veci. Mergit mi so i pojede ptice. Zdaj mi pomezi, koli? Janko, strah me je. Nikoli ne bova kišna bolj iz tega gosa. Veš, bo bolj, da naj pojedev. In veš, kaj naj lobozno? V naravnem palkeh te povedamo manje ptice. Ko je skajna bova to hišico izmedic, o kateri vedenjo govorite na ena staša, vse ga uvedu. Dajmo, saj imate ga vjaviš. To sta samo zato govorila, da sta naj zavutila. Kdo bi si izgradil hiša izlaštili? Kaj? 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 Vaici il resto! Die tribunazioni! C'è quanto più bosto. Tava e sera in tava, ma lo troppo sono troppo in da devesa. Vi chiedi che vi spessi. Da bosto vlara otoch per te. E' stato perché me è stato così nola in troppo? Bli quei tu riesco? Sì, mi chiede, che mi chiede, che mi chiede, che mi chiede, che mi chiede. Sì, mi chiede, mi chiede, mi chiede. Sì, mi chiede, mi chiede, ma adesso ti sono ancora più stigli. Sì, mi chiede. Wow, si è parlato, che sta già non so l'aggata? Vem, da mi chiede, che non so l'aggata, ma che così l'agga. Che si se va malo ? D'ora, da te d'ora, d'ora, veste, tako sa se spravena, in da mi mišice se struge, ali se si malo najela. K'è pa ima ta stača, a vejo, da ste tèkaj? Zapustili sene, in nismo imeli dovolj palno. To bo še laž, kot si mislina. Nic niš, predita, to je moja riča. Nema bolno sela k'hanni, no me ne da ogulina. Dove bene la nostra idea avrai. Ma sai, metti un young pistache, niente, un colino che via la niente, perché è meglio che il metto, nel cuore, per costruire. Eh, eh. Inizia, qui ne puoi, se ne puoi, se ne puoi, se ne puoi, se ne puoi. Tu ne puoi, se ne puoi, se ne puoi, se ne pui, se ne puoi, se ne puoi. . . . Sosso che tutti ricordati da marco spogliendo a marco. Wow. E' sa quelli che non sono mai più sposti, che su la sable non si trovi. Ma. Mi chi, mi chi, quando tu racconto? Sempre sono un'altra barca, in questo giù che applichano nel mondo. Ci sono le… Bisogna vittura, tra ciò che dal cipollano. Wow. E, come parlate? Mi chiamo di tecatenino? Prid! Da qui sei che sti te botoni stara čarollica? Prid assim! Belmi gli! Anche alle che ti chavate. Cicerò me haè un po' inizio? Belmi raggiore! Vi sei stav teboli! È stato progetto inıziale in chavodà. Speri di te raggiungi da nego! ma è, l'ho ne zrocciso in cui bu clicked più la tuazza da si mili alla pomerterte mi rifi dispi d'agliare che tu puoi beggi perché non si vedi che proprio ne anche in cacere levi e cos'è cosa da l'anno che tu puoi provano quindi su questa che saranno impi di persone che tu puoi e anima non ci si poi ci puoi che tu puoi che io ho messo, in poi ho poveglato tudi che tevi. Ma stai stai chiesto zvecani! Tišina! Mi znam, da ne bi želela biti na tvoje testi, ma tačno žele nec. Daj pa grembo, crini mi posto pomagano nas, l'ikipo. Caronica je pitala Janka dan za dnev, metta pa je mogla postavljati po hiši. Vsak tem je melo Janka, da je preverla, če se je že doboj sredil. Torej Janko mi je veno pomaglil l'iziko. Caronica je bila tako slabo vidna, da ni obazila a zbikih. Ne morem ne biti, zdi se mi, da si gdje doboj suh. Da, da ne te lo patiš? Ne, nam se bo zelo dobro pribavljati. Poteča, da bom število dobro. Meni pa prenesi bram še več rana. Tako smlaka, želite nam je tu i ja števila nekaj zaljeli. Se bo pojila mene, vsa hrana se možem, ne? Ampak se je od tih mene pojila. Ampak se je od tih mene pojila. Ampak se je od tih mene pojila. Nijakam, a ne pojila. Ne, što pa da? Dajte mi moj pojila oba. Daj pa mi, a pojili, sklega pa to duje novo školjanih maliv. Miset ni in visto si no nas te provoču kasneje. Dajte da otorču ne po pojila. Ste mi post. Kada se povila še vemo samat posti koja. Dovedev ene kterava. Chajde mi da. Asemimu opet se siena la zameyak. Mi ha detto che non trittano. Lei, lei! Nina, la prima tu tu hai? Ne, da mia stella. Nina, la prima cosa che si. Alla cosa che è? No, sei un nuovo dama. Che è la prima cosa che sei. Ma la sento di. È così un nuovo po. Molto, una posta veramente, ma è una bazzetta di sottopo che farò scendero knizado nei miei salati. Se trovi da ritagare tutta la mia moglie, sono sempre molto cambiata, e scantate, la mia stessa! Con la stessa! Questa è un po' che era, che fosse un po' che era, con la mia faccia, mi da bello che dalla mia moglie, non è sempre venuto. Vali a voi, qui ne va, non è una buona giocevo. Perchè, via il che è in un'imposto. Qui si voti ci sono polizia? Ci si vede un'imposto, perché c'è un'atturazione di rio da un'amore? Ci sono un'imposto che si vede, ma non parlo? No, in un'imposto che abbiamo bisogno di stare a un'amore. No, ma non si vuole questa vanno a farci. Non si vuole questa. Non si vuole questa, mai? Non si vuole la voce. Perchè, non si vuole il packedà. Pagò perciò, ci sono la possibilità. E, volevi dire, e ci spettavolo. così mi chiede. Mi a paura? Mi a paura? Mi a paura! Perfetto è... ...mai non mi si tratta della. Non mi si tratta di farà. Sì 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 sì. Grazie a tutti. e adesso se prendete il strano che da parte l'espressione da! E così da l'appare! Sì, non ciò che chiamo più fr Ukraine che mi pareci a cercherebbe il risotto in temperatura andiamo aиваем tritettiamo sul cow litro Tu hai, mi so l'ho da l'ho da l'ho da l'ho da l'ho stava Prova privata! Issoicht tone su suit моic insectic oggi! Occasnon non mi capite it ﷺ Ehhahahahahhahah! 6-0 per la n inaccettata, 18-0. 8-0. N Hotline! Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Wow, tu è delico da Lanz? Già, ti di greva. Già, eva. Wow, tu è delico da? Da, oveggi te bevi che ci soppermi in si bukano. Our ma prima dei segni da Kampfer? Già? Vem kaj in jambi sulla stižala da so che a vnore il ciè... Vrla, c'è bene mi sta vera, o kako pripli izgozda. Chodila sta in chodila, in bene bo sta vera, ozbojela. Ampak ne c'è vecce viola, c'è! Spet sta se esprubila. Nikoli ne va pišer domov. Kako prijeti da? Pogledaj, spet mi sta vera na oboga otroka. Ampak mi se njih, da se fan ale tradil. Ej, vajči, 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 vajči. Vajči, 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 vajči. A se lahko nek'ha to na čebatni znam, in na m'ha pomesta, k'ho prida vodne s tega bozda. Nič ima ne povedo mi že koni. Če ima bova pomagala, se nikoli ne boste načela samo raševati delo. Najbolj boste biti na narodno selekcijo. Vredi greba, da je še ena ležje čas. To pa, revli ljudje. Hvala, za vašo prijatno pomoč. Ej, spedevajte v biti narodnih papirka, k'ho priraj. A pa, spetaj, poslednja najboj iz. A sta viditev naredila? Le, bogati ljudi, ki v tisto smer so šli. Bogati ljudi. Nimi so mre na sami poglednji. V soč kušče smeti, da za pitnici zmero zbero dom, pol zaščitljenih cepic. Žal mi, zanimam časa zdaj. Mor za nimi. Popoštevne nam ne bila na hanga papirka, če ne? Malo je nam slovo vest, ampak vresta bila možorna. Zdaj, ne misli, da je zelo kakega vredni, se gospod pa upopne. In pa tvorka sta cel dan davala po gostu. In na koncu ima je vrn dale uspelo na to počku, ki ju je bodila to doma. In pa časi sta spet postajala načna. Ja se ne krem, več. Hvala. Pa ko doba, čuditeke, ka nime čaka. Pa čas, da je vrn. Pa čas, da je vrn. Na ne je vrn. Sve vrn. 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 Dobbol. Ka je, je. Dobba daň, živostáša. Vrn. Ja to, ki je vrn. Vrn. Ne znovaj, ki čaka vrn. Dobba ti da vrn. Ja ne ti da kvrn. Vrn. Ne kakakuso, kogo havojš mano. Vrn. Hvala. Volšti da najje vbrúzu sveča lasa voga. In skogaj najje vrn. 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 Oh, mo conflictinge si spettono, come tu le persone che possessono. Non m'improvo, mi sono ancora l'abasa che si è in un'attro, non si è in un'attro. No, invece cosa che? Si, come tu la fine, sembra prima di un altro. Non è l'abardo. No, non è l'abardo. Non è l'abardo. Più l'abardo? Nina? Nina? Nina! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.